bene allora ragazzi faccio di nuovo questa diretta sorpresa così ho pensato di parlarvi direttamente di un video di questo post che se non l'avete ancora letto potete andarlo a vedere che dovremmo cercare di imparare a rispettare il lupo solitario e in questo video vi vorrei un po spiegare il perché un lupo a un certo punto vive da solitario in che condizione si trova quando noi lo incontriamo che danni realmente può darci come possiamo eventualmente proteggersi ma specialmente la cosa più importante come sempre conoscere gli animali prima di poter prendere delle decisioni e un'altra di quelle dirette direi a sorpresa perché ciò che mi interessa più di tutto e poi avere un video dove ho esternato le mie impressioni quindi man mano che vi collegate se qualcuno volete dirmi se si sente bene eccetera per me è sempre un confronto importante per evitare di stare qui a parlare e poi magari per linea eccetera voi non mi avete sentito e mi sono anche messo un po qui al riparo perché c'è il sole ma ogni tanto nuvole piove fa bello eccetera ma qui non ci saranno problemi allora per iniziare questo tema io vorrei dire io sinceramente non sono in grado di dare delle risposte certe su questa eterna discussione che oggi c'è se i lupi si siano riprodotti ed espansi improvvisamente così diciamo senza preavviso e siano stati per tanti anni assenti dalle nostre montagne ormai dalle nostre campagne dalle nostre periferie delle città perché questo che praticamente cambiato una volta all'inizio cercavamo di andare alla ricerca del lupo io tanti anni fa l'ho fatto perché volevo a tutti i costi vederne uno oggi è molto facile vederli ma è molto facile vedere questi lupi non solo in montagna non solo sia un non solo se sia un greggio di pecore non solo se si abita in posti sperduti oggi direi purtroppo ma purtroppo per loro vediamo ogni tanto di questi lupi solitari ovunque e prima di trarre delle conclusioni prima di nervosirci inutilmente prima di avercela un po con tutti specialmente con l'animale che alla fine crea poi danni secondo me è sempre molto importante conoscerli ciò che io vi dirò oggi fa parte appunto vabbè in questo momento di un videocorso ma in passato fa parte di una cultura che io ho sempre cercato di trasferire alle persone che si avvicinavano a questo mondo ma non tanto al mondo dei lupi ma al mondo di chi dai lupi in qualche modo iniziava avere dei danni e doveva in qualche modo conviverci allora secondo me per poterne trarre delle conclusioni non affrettate ma di carattere direi più equilibrate e anche con più ragione di causa è necessario che le persone sia quelle che vogliono studiare cinofilia sia quelle che non la studieranno mai conoscano tutta una serie di dettagli questi dettagli quali sono il primo che vi ma intanto vi stavo dicendo io non so sinceramente se i lupi qualcuno dice a hanno fatto delle operazioni affinché si riproducesse la dismisura li hanno reintrodotti altri dicono sono a bene bene quindi vuol dire che si sente e quindi si sono riprodotti naturalmente siamo stati per tanti anni chissà perché con meno lupi che avevamo meno insediamenti urbani oggi ci sono più insediamenti urmani le montagne sono ci può dire più frequentate di un tempo in certe zone ma i lupi ci sono ugualmente ci sono talmente espansi che ci vengono a trovare qua in città in piena pianura eccetera quindi io non vorrei dare una risposta a questo perché è una risposta che non conosco posso avere delle mie idee delle mie impressioni ma io non mi sono mai basato sulle impressioni mi sono sempre basato nel momento in cui decidevo poi di prendere una strada su quello che io consideravo certezze fatto sta che i lupi oggi ci sono e ce ne sono tantissimi ce ne sono talmente tanti che probabilmente tutta una serie di territori ormai sono coperti da dei branchi e ogni tanto noi vediamo ai margini delle nostre città dei lupi solitari sono rari i casi che noi ne vediamo molti in pianura sono rari i casi che quando noi li vediamo di giorno e non ne constatiamo solo i danni siano in molti vediamo quasi solo sempre un lupo però mi interessava in aggiunta quel post che ho fatto dove ho scritto un po queste cose in modo in modo risicato però volevo fare anche un video approfondire alcune tematiche allora la prima cosa che noi dobbiamo considerare sempre indipendentemente se i lupi ci hanno già fatto dei danni o non ce li hanno fatti e che i lupi se una cosa che non sono interessati e al nostro bestiame e al nostro ai nostri animali domestici e tanti diranno siccome mi hanno appena ammazzato 40 capri 30 pecore qualcuno si è visto portare via il cane ho visto filmati che hanno portato via lo che dove abita mia figlia ci avevano un po di animali non protetti dei cani è successo un disastro l'altra settimana o che anatre galline tutte c'è un disastro e quindi non è facile andare a dire queste cose perché le persone che hanno appena subito i danni dicono no i lupi sono molto interessati al bestiame in realtà oppure gli animali domestici in realtà non è così perché laggiù dove esiste un branco formato che poi non è mai una condizione stabile del branco ci sono intanto esiste una riproduzione quelli che hanno originato il branco poi continueranno a filiare e quindi quelli che magari hanno filiato gli anni precedenti o rimarranno inseriti nel branco se sottostanno a determinate imposizioni gerarche o specialmente se si manifestano utili alla sopravvivenza del branco se no a un bel momento bisogna che vadano in quella che si chiama dispersione ci si staccano dal bar però laggiù dove c'è un branco che più o meno funziona e che sia attivo il branco possiede si può dire a una leader si su un territorio possiede un territorio la territorialità del lupo mi ha sempre fatto sorridere perché mi si metteva a confronto con quando non so io inserendo i miei cani da guardia all'interno giardini molti mi dicevano ma scusi ma un cane territoriale non dovrebbe rimanere all'interno del giardino anche se io lascio la porta aperta e a volte poi confondevano la territorialità la terra territorialità dei cani con quello che una volta magari le persone più anziane più che come me si ricordano dei cani padronali che erano quelli in campagna dove non c'erano recinzioni e pure i cani giravano sempre lì attorno e allora ho sempre pensato ma allora qual è il giardino dei lupi cioè nel senso dove la recinzione che noi mettiamo i lupi visto che i lupi sono gli animali credo fra i più territoriali in assoluto e la territorialità che hanno ereditato i cani l'hanno ereditata dai lupi e allora è facile capire questo concetto e poi ribartarlo poi anche sui cani non è sicuramente una questione delimitata come può essere un giardino i cani hanno una territorialità in funzione di tante cose della loro personalità del loro udito del loro olfatto eccetera e bisogna sempre vedere bene noi spesso per grande che sia il giardino noi creiamo una prigione i nostri cani nel loro territorio ed è il motivo per il quale non appena possono scappano stesso motivo perché si incazzano già quando noi non entriamo nel giardino ma tante volte siamo lontani a 50 metri perché noi non lo sappiamo ma in realtà siamo già nel loro territorio ed è molto interessante e ci ho messo un po di tempo a capirlo cosa sia nei dettagli il territorio di lupo territorio di un lupo di un branco di lupi e quella porzione di terreno ci potrebbe dire libera perché poi ogni branco ha dei territori ogni branco e confinante con un altro branco dove all'interno di questa porzione di territorio che tante volte sono chilometri chilometri quadrati esiste sufficiente selvaggina esistono sufficienti prede naturali perché i predatori nascono non sicuramente per venirci a uccidere il nostro bestiame ma per vivere di ciò che la natura fornisce loro quando sono nati i lupi chissà quando non esisteva il bestiame bestiame che noi non so vediamo già nel presepio di 2000 anni fa si calcola che sia nato più o meno 12 mila anni fa abbondante prima il lupo come avrebbe fatto a sopravvivere senza bestiame quindi nel suo territorio nel nel territorio del branco che è obbligato a contendersi ai confini con altri branchi creato hanno altri territori avviene esiste permane la sopravvivenza di un branco di lupi un branco di lupi ha la capacità di organizzare delle cacce nel momento in cui sente la fame la necessità guzza l'ingegno come si dice proprio tramite il leader che è quello che si può dire che conduce il branco nel momento in cui non è più in grado perde anche la sua qualità di leadership conduce il branco nel territorio e attraverso le cacce che tutto il branco riescono a mettere a segno il branco in grado di sopravvivere perché se un branco può e quasi sempre si organizza per farlo non gliene frega niente né degli annostri animali domestici tanto meno cani gatti e tutte queste occhi galline culedri di cavalli eccetera ogni tanto unice ma qua venisse un branco di lupi eccetera perché non gliene frega niente se può essere indifferente perché cibarsi di selvaggina ma specialmente fare si può dire quell'esercizio fisico utilizzare queste strategie per potersi approvvigionare di questa selvaggina crea delle competenze si può dire delle capacità al branco di lupi che gli garantisce la dominanza su quel territorio laggiù dove perde queste capacità proprio il branco si indebolisce si impoverisce di strategie ecco che questo territorio diventerà sempre più piccolo fin quando nei confronti di altri territori dove ci sono branchi che invece hanno queste competenze fin quando sarà talmente piccolo che non sarà più sufficiente a poter soddisfare l'intero branco il branco si disferà perché è un po come quando in una famiglia c'è la moglie marito magari ha fatto due o tre figli marito va al bar può essere l'uomo più bello del mondo più comprensivo del mondo più gentile del mondo però è difficile che rimanga perché la moglie dovrebbe occuparsi dei tre figli dovrebbe andare a lavorare dovrebbe fare tutti i lavori di casa ecco che proprio a titolo naturale nascono questi primi screzzi che mandano tutti in dispersione che noi nella nostra vita di tutti i giorni si separano poi i figli vanno un po da uno un po dall'altro insomma poi subito i tribunali ecco senza tutte queste cose nel branco di lupi accade questo quindi se c'è una cosa che i lupi non vogliono nel modo più assoluto e mangiare qualcosa di diverso di cosa ha previsto chissà quanti anni fa la natura quando la natura ha fatto i lupi ha fatto anche le prede io sono sempre il promotore di ripara siti che noi adesso vogliamo debellarli tutti è tutto da vedere se ci fosse un equilibrio se i parassiti visto che li ha fatti nella natura siano così da noi potrei dimostrare l'ho già fatto quanto certe volte da i parattesi i parassiti servono molto ad esempio la selezione naturale delle specie c'è da poi siccome questo equilibrio noi l'abbiamo distrutto completamente adesso ci dobbiamo proteggere dei parassiti come dalle zecche e da tutte queste cose e nello stesso modo noi abbiamo distrutto questo equilibrio dobbiamo proteggersi da queste anomalie che avvengono con i predatori che fino adesso sono solo i lupi però ci sono già casistiche di sciacalli gli orsi adesso ne abbiamo sentito parlare c'è probabilmente aumenteranno come vi dicevo se c'è una cosa che i lupi vogliono e del motivo per il quale loro organizzano un branco e cacciare selvatico quindi non so cacciare dipende in che zona si trovano le cerve i cervi piuttosto che i caprioli camoci in base a dove si trovano comunque cacciare degli ungurati perché sia la qualità della carne sia l'affinità che loro devono saper mettere in pratica crea diciamo si può dire questa forza di branco che garantisce al branco non solo l'esistenza ma la permanenza in quel territorio siccome oggi voglio parlare di lupo solitario dei rapporti dei danni che fa dei rapporti che dobbiamo avere a un certo punto per tanti motivi dal branco si staccano dei soggetti e i morti motivi sono molteplici possono essere semplicemente perché in quella cucciolata se ne sono salvati più del dovuto crescono e a un certo punto come facciamo noi della nostra famiglia dice ok visto che sei sanno e disposto questo branco sta crescendo il territorio quello che ti salutiamo e te ne devi andare oppure magari perché c'è incompatibilità fra non solo magari la forza l'agilità eccetera di questo lupo il sesso eccetera ma proprio proprio per il ruolo di branco per per tante cose a un certo punto il branco chiede si può dire costringe ad alcuni giovani ad allontanarsi nello stesso modo a volte è un allontanamento spontaneo perché il lupo come fanno i figli all'interno della famiglia non si realizza più in qualità di essere vivente e dice ok questo ho imparato ormai imparato a cacciare imparato a sopravvivere ho imparato a relazionarmi con altri lupi ho imparato tutto quindi io sento questa esigenza una cosa attarica naturale di andarmi a creare un altro bravo ci sono ancora altre immotivazioni ad esempio un lupo è abbastanza vecchio sempre stato utile al branco ma negli spostamenti nelle azioni di caccia eccetera non è più in grado di essere utile al branco non aspetta perché per quanto noi abbiamo voluto mettere la poesia negli animali gli animali sono nati nella natura natura li ha creati molto prima che ci fossero i poeti di conseguenza capisco quelli che s'aggrappano per trovare un equilibrio ai propri sentimenti alle proprie non solo delusioni piuttosto che frustrazioni ci mettono della poesia negli animali molte volte non è dannosa ea volte farne la poesia della fantasia sugli animali molto dannoso per tutti per gli esseri umani per gli animali stessi eccetera però la natura di tutto questo non ne frega niente è nata molto prima di tutte queste cose quindi a un certo punto questi lupi se sono anziani e beh non riescono più a mantenere il ritmo e il branco li perde per la strada e perde per la strada perché quello che vuole natura natura ci dà conta molto sulla qualità della vita i lupi hanno una qualità della vita molto elevata sono liberi non sono come i nostri cani come noi come tutti gli animali che viviamo ingabbiati fra regole ma tanti animali vivono veramente nelle darvi i nostri cani vivono in una gabbia che si chiama appartamento che si chiama giardino recensione del giardino e si chiama tutto quello che noi vogliamo fargli fare ai nostri cani i lupi vivono una qualità di vita molto alta perché per quello che affascinano molto le persone che magari hanno una qualità di vita molto bassa sotto il profilo della libertà e allora si può dire idolatrano il lupo in modo esagerato attribuendo al lupo chissà che cosa ma la natura ha inventato gli animali perché fossero liberi poi noi abbiamo iniziato a imprigionarli compreso quando abbiamo imprigionato degli animali che poi addomesticanti sono diventanti il nostro bestiame che noi sfruttiamo che noi teniamo all'interno di strutture che facciamo produrre del latte per berlo noi che facciamo produrre degli animali per ucciderli poi fare mangiare la natura tutto questo non lo prevedeva e poi stato l'uomo che si è inventato questa cosa fatto sta che quando il lupo è anziano il branco lo perde e lui cosa fa finché ce la fa vive da lupo solitario e cerca in qualche modo con le energie che ha e le possibilità che ha di poter sopravvivere c'è ancora un altro motivo direi veramente antipatico per il quale a volte i branchi si sciolgono non è così facile individuarli meno male ma a volte quando si riesce ad individuarli l'uomo decide di ammazzare magari per tenerlo un trofeo per sapere perché un componente di questo branco e spesso non sa che se ammazza quello che era un po il leader quello che era un po il fulcro quello che teneva insieme al branco quello che aiutava in poche parole branco a sopravvivere quello che gli dava tutte le istruzioni giuste quello che aveva la leadership e il branco non avendo più un capo un po come quando chiude l'officina va il titolare in pensione prova a cederlo a qualche dipendente più delle volte non ce la fa perché un quanto è saper far bene i lavori un quanto è saper alla capacità di prendersi la responsabilità di un'azienda da portare avanti e quindi azienda e dipendenti anche qua ma nell'ispersione devono andarsi a cercare un altro posto di lavoro per fargli sopravvivere e quindi esiste anche questo motivo oppure un lupo si ferisce non esiste il branco che lo guarisce può fare dei tentativi se lui tiene determinati ritmi magari se sono sufficienti oltre alle sue leccate leccate del branco lo può fare gli animali da branco solitamente sono quadrupedi significa che con tre gambe possono fare praticamente tutti io i clienti si spaventano sempre nel vedere come no si spaventano sempre nel vedere i cani quando hanno una zampa alzata rimangono su tre gambe gli spiego sempre ma il quadrupede è stato creato dalla natura perché con tre gambe possa far tutto compreso procurarsi il cibo e dar tempo all'arto che si è ferito di poter guarire ecco perché io sono molto favorevole a guarizione naturale al contrario di chi ci vuole speculare sulle malattie dei cani sui sentimenti delle persone eccetera quindi basta un'unghietta leggermente scheggiata bisogna ricoverarlo nella clinica di conseguenza a noi ci troviamo in un'area più che noi innanzitutto si trovano loro in una realtà quando escono dal branco sono singoli sono singoli e per alcuni accade un colpo di fortuna il colpo di fulmine da un branco è andato via un maschio l'altro branco è andato via una femmina si incontrano ci piacciono perché non è scontato magari si incontrano nel momento giusto che lei in calore perché se non possono anche solo considerarsi innanzitutto concorrenti al cibo non possono ancora avere questa volontà questo incentivo di unire le forze per cacciare fatto sta che noi laggiù dove ci sono dei branchi non possiamo farne a meno di avere tantissimi o perlomeno altrettanti ma ce ne sono in misura superiore dei lupi solitari quindi ricapitolando un po il discorso noi quando vediamo un lupo solitario è un lupo giovane che si è staccato dal branco per le ragioni che vi ho detto un lupo anziano che non era più in grado di essere utile al branco o magari un lupo ferito anche un lupo malato ecco mi sono dimenticato anche di dirgli un lupo malato un lupo che va a sapere perché motivo non se la sente di avere le energie da poter aderire al branco io ve l'ho raccontata in modo meccanico ci sono delle vie di mezzo ci sono lupi che malati comunque seguono il branco ci sono dei momenti che il lupo che il branco è sazio non ha bisogno di misurarsi e di andare a vedere se questo lupo ha o no delle facoltà da poter essere utile al banco magari riposano 4 5 giorni quel lupo malato siccome non mangia è la prima cosa che dovremmo fare anche noi fanno i cani le persone si preoccupano sempre quando cane non mangia quando cane non mangia e in auto riparazione perché perché non ha mangiato un pasto bisogna correre subito bisogna ovviamente conoscere l'animale però perché agli animali selvatici funziona questa prima cosa parte il digiuno questo permette all'organismo dell'animale di concentrarsi sul sistema che può dire così non è un termine credo scientifico auto riparatorio fare qualcosa nel senso non doversi occupare di tante funzioni né muoversi né perdere agire ma concentrarsi nell'andare a riparare in modo naturale ciò che non funziona quindi laggiù dove noi vediamo un lupo appunto questo lupo è o anziano o malato o giovane oppure ma molto più raro si trova solitario perché per cose accidentali l'uomo accidentale a volte volontari ha ammazzato un componente ha ucciso proprio quel componente che era cruciale per tenere insieme il branco e quindi gli altri lupi vanno in dispersione esistono anche gli incidenti lo sappiamo i lupi vanno sotto i treni vanno sotto le macchie è molto meno probabile che questo accada un branco perché il branco quando si divida un'area in grado di spezionarla molto bene perché intanto vuoi vedere qual è la selvaggia a disposizione in grado non ha una fame immediata ora sapere che cosa non ha una necessità di trovare del cibo se non muore di fame si organizza il territorio quindi quasi sempre anche in questo caso i lupi che si fanno vedere facilmente i cacciatori di uccidere i lupi che attraverso la strada e vanno sotto la macchina sotto il treno sono già sempre lupi si può dire fra virgolette disgraziati lupi che hanno problemi salute o hanno problemi di energie di forze tante volte sono veramente affamati perché non sono riusciti a procurarsi sono lupi giovani quindi senza esperienza sono ecco una cosa importante sono lupi ecco perché se li troviamo in pianura che non hanno un territorio non sono in grado di rivendicare un territorio e quindi vengono spinti via da quel territorio occupato da tutti i branchi in modo di dire questo è già nostro vai vai e loro partono dalle montagne noi ce ne troviamo in città allora nello stesso tempo io posso essere assolutamente d'accordo con le persone che sostengono che i lupi solitari sono per noi più pericolosi per noi intendo per gli nostri animali domestici perché non essendo più in grado di cacciare ciò che loro vorrebbero quindi gli ungulati perché sono da soli voi non dobbiamo mai dimenticarci io lo spiego sempre ai corsi anche i miei video corsi che la vita di un essere vivente e la differenza fra ciò che noi ingeriamo le calorie che otteniamo dal cibo che noi ingeriamo e tutte le energie e calorie che noi dispendiamo per procurarci questo cibo quindi il branco per quanto sembra assurdo sono in cinque o sei cinque o sei sopravvive bene perché riescono in branco a cacciare un animale di dimensioni sostanziosi si dividono il pasto ma più che tutto si sono organizzati da non disperdere molte energie il lupo solitario specialmente giovani che fa prova a correre dietro un po' alla lepre magari non la prende prova a prendere un fagiano prova questo prova quell'altro a un certo punto si sente carente di energie che fa non può fare altro che venire per non morire a mangiare uccidere mangiare sbranare quegli animali dove lui li trova facili da cacciare che sono i nostri animali selvatici scusi i nostri animali domestici sono incapaci di difendersi incapaci di scappare ma non manco la malizia tante volte io su adesso non mi ricordo più su in veneto non mi sta venendo in mente i lupi si mangiano le mucche sono diventati talmente domestiche vanno si mangiano pezzi di mammella se ne vanno via perché sono mucche da latte che sono state selezionate nel tempo come produttrici di latte e basta e sono talmente domestiche facile da gestire l'azienda che quando le metti nel prato se non le protegge molto in vissinia o lo dio succede un casino io mi sono occupato mi occupo ancora di alcuni questi casi quindi in sintesi quei lupi ben organizzati quelli fra virgolette più micidiali quelli anche più pericolosi per i nostri cani ogni tanto qualcuno dice sì tu fai cani antilupo vabbè qualcuno quelli che io li chiamo psicoanimalisti non hanno ancora capito che il termine antilupo non sono i cani che odiano i lupi sono quei cani che si mettono proprio gli abbiamo chiamati antilupo per dire se tu hai quei cani il lupo sta alla larga altri si preoccupano per i cani i primi vi dicevo si preoccupano dei lupi non potete creare cani antilupi che i lupi sono bravi e altri si preoccupano per i cani si immaginano nei combattimenti fra i cani antilupo e i lupi quindi perché vedono i film di zana bianca di di tutti questi l'ultimo lupo e questi quindi si fanno queste idee in realtà sempre che noi non prendiamo un greggio e non andiamo a cercarlo il lupo perché bisogna far due considerazioni se io prendo un greggio e piuttosto che una mandra degli animali e vado per fargli pascolare in quelle zone che sono state si può dire dove si sono insediati dei branchi di lupi organizzati non vedo questo grande pericolo perché però anche lì a volte accadono delle cose accadono a quelli che non si sanno organizzare con i cani con tutte le difficoltà nascono sempre discussioni ovviamente che io conosco l'intolleranza turisti cani queste sono cose che noi ne abbiamo già parlato molte volte conosco benissimo però io adesso mi vorrei rivolgere più che tutto a quei lupi che noi a un certo punto incontriamo per la strada quei lupi che magari ci sono entrati nel giardino e ci hanno preso il cane quei lupi che ci fanno fuori le galline al posto della volpe che ci ammazzano gli asini gli asini ad esempio sono abbastanza deboli nel difendersi contro il buio che ci ammazzano i puledri di cavalli che ci ammazzano i vitelli che sono in azienda noi abbiamo l'azienda in pianura qui sta accadendo proprio nella pianura vicino a me questi arrivano ecco quasi sempre sono lupi solitari e laggiù dove non fossero lupi solitari è possibile magari che per tutta una serie di motivi ci siano una mamma che abbia dei cuccioloni eccetera eccetera però normalmente laggiù dove possono già in qualche modo organizzarsi un po del domestico non interessa assolutamente ma esiste anche proprio una qualità del cibo cioè se noi ci cacciatori vanno a caccia della selvaggina perché la ritengono di una qualità superiore agli animali allevati e noi siamo diciamo onnivori in parte i carnivori figuriamoci i carnivori i carnivori prediligono in assoluto la qualità della carne del selvatico ma poi come vi ho detto legato alle abilità di poter cacciare degli animali selvatici esiste anche proprio la pertinenza la competenza territoriale che i lupi per la sopravvivenza tengono molto a cuore quindi quando noi incontriamo un lupo solitario specialmente di giorno che si fa vedere oppure entra nei nostri giardini ci prende qualcosa noi il 99 per cento abbiamo a che fare con un lupo disgraziato non dico che non sia pericoloso però disgraziato perché o perlomeno deficitario o di esperienza perché un lupo giovane o di efficacia perché un lupo anziano come fa il lupo anziano che è stato abbandonato dal branco correre dietro non so a delle prede selvatiche se non ce la fanno manco i giovani per dire come fa uno non può malato allora è ovvio che li vengono se li vengono a tiro degli arbivori la qualità degli arbivori per un carnivore molto più elevato che la qualità degli onnivori quindi per quanto stia capitando e questo allarma un po tutti vuol dire che il numero dei lupi sta aumentando a dismisura vabbè la carne di un cane di fa molto più schifo un lupo però non dimentichiamoci che i lupi a volte si mangiano anche fra loro e non dimentichiamoci i lupi possono mangiare benissimo gli esseri umani ma questo lo possono fare anche i cani laggiù dove c'è il carnivoro che ha fame e beh si trova della carne per sopravvivere prima di morire ma l'ha fatto anche gli umani con gli umani se voi andate a vedere laggiù dove sono andati giù aereo c'erano momenti di estrema sopravvivenza esistono i cannibali per dire tribù che qualche modo mangiamo gli altri umani quindi se noi non andiamo a diciamo aprire un libro e chiamo a leggere fra le pagine dei romanzi delle fiabe eccetera ci atteniamo a quello che la natura queste cose tranquillamente le troviamo tutte citate poi le persone che per una scarsa cultura cinofila o zoologica se ne come dire si stupiscono e sono incredoli questo no il problema della natura il problema che l'uomo crea capisce fa quello che vuole agisce reagisce come gli pare però la natura a tutte queste cose non le tiene minimamente conto tant'è che quando la nostra ora di lasciare questo pianeta terra incurante se l'ora di un bambino crea il problema il bambino se deve far venire malato oppure c'è un malato sofferente che a 100 anni non riesce a morire ma la natura non ha previsto che lui muoia e questo accade un po per tutta la specie animale specialmente i lupi ma vi ho voluto dare tutte queste spiegazioni perché se è vero che il lupo solitario e insidioso ed è quello che probabilmente come fa la volpe si può dire viene fa un po mamma mambassa la volpe è ovviamente più debole di un lupo quello lo sappiamo ma impareremo a conoscere anche gli sciacalli e questo che sono degli abili scavalcatori scavalcano le recinzioni con molta più facilità io li ho visti in georgia a scappare con un piccolo agnello cioè hanno un'agilità incredibile saltano corrono in salita è una cosa incredibile e nel momento in cui incontriamo un lupo subiamo questi danni noi dobbiamo capire che cosa che questi danni se li ha dati un animale molto più debole di un lupo qualsiasi e questo ci deve suggerire che laggiù dove fra tutti i lupi quello più insidioso quello più pericoloso per i nostri animali domestici per il bestiame che abbiamo attorno a casa eccetera è un lupo debole vuol dire che noi ci possiamo difendere facilmente qual è il motivo che noi con una coppia di cani da guardiani antilupo che ripeto per i psicoanimalisti non sono i cani che combattono contro i lupi e non sono quei cani che vanno a rischiare la vita contro i lupi perché i cani sanno fare i cani i lupi sanno fare i lupi servono a tenere lontani i lupi se sono capaci di fare questo le orinate ad esempio dei cani sono importantissime ecco per lanciare dei segnali importanti ecco perché io sono contrario al massimo a chi sostiene che anche se li sterilizziamo è la stessa cosa non è la stessa cosa è molto diverso noi abbiamo già un animale selvatico che deve competere con un animale domestico se ancora l'animale domestico lo sterilizziamo in più gli diamo le crocchette da mangiare non sarà così facile che sia un concorrente è probabile che non impaurisca il lupo non reagisca nemmeno questo cane o questi cani e lupo fa come non ci fossero come fossero i sopra mobile ma laggiù dove noi abbiamo dei cani che sono rimasti cani e come il lupo sta sempre fuori devono rimanere fuori anche i cani che mangiano un cibo che ha una qualità si può dire al lupo solitario non è uguale al branco di lupi ma lupo solitario che viene per in qualche modo sottrarci i nostri animali domestici anche un gatto una qualsiasi cosa per potersi cibare siccome questi lupi solitari sono molto più deboli tanto dei singoli lupi del branco ma della forza del branco e noi abbiamo la fortuna come ho detto prima che il branco di noi molte volte se ne frega perché ha degli obiettivi diversi esistenziali e non venisse a prendere nel nostro bestiamo a casa negli ostini animali selvaggi vuol dire che anche molto facile a tenere lontano infatti i lupi predano sempre laggiù dove non c'è una protezione adeguata però non si può far niente se ci sono i lupi potete mettere tutti i commenti che volete potete mettere tutte le imprecazioni ma intanto i lupi ci sono vivete in uno stato italiano lo potete cambiare ma non lo cambiate a quanto pare potete fare una rivoluzione ma non la fate avete accettato di tutti figuriamoci se non accetterete i lupi quindi dovete accettare questa realtà i lupi ci sono se voi avete un allevamento con dei lupo solitario sarà tanto faccio così facile uccidere il vostro voleto e si farà un bel pasto che lo farà in più qual è un grosso problema del lupo solitario che proprio perché non ha un territorio proprio perché non ha delle certezze esistenziali proprio perché non è organizzato in un branco potremmo dire mille volte perché più debole perché tutto perché a volte più affamato se arriva dove ci sono degli animali domestici non ha l'intelligenza di un essere umano perché un animale per quanto a tutti i costi si vuole dire che i cani sono più intelligenti dei degli esseri umani e purtroppo non è così per i cani derivano ancora dei lupi e proprio perché noi abbiamo addomesticati ci abbiamo abbiamo sceso molto la loro intelligenza noi vogliamo confondere l'intelligenza al cane intelligente quando fa tutto quello che vogliamo noi e perché le persone che fanno tutto ciò che vogliamo noi sono intelligenti no diciamo che ci è comodo e quindi è obbediente persone intelligenti non sono mai obbedienti persone più sono obbedienti più sono stupide e quindi il nostro cane molto più stupido di un lupo e lupo non ha l'intelligenza di dire ma me bastano due galline me le mangio vado da un'altra parte ma bastano due agnelli no il lupo arriva e dice cazzo ce ne sono venti li uccido tutti così almeno poi se fin quando non arriva nessuno intanto mi rianco bene la pancia e acquisisco energie ma non solo non ne devo poi sprecare a rincorrere un'altra volta ce l'ho già qua in conseguenza il lupo essi un cacciatore ma anche un raccoglitore può in qualsiasi stagione ecco perché d'inverno accade di più specialmente in inverno lo sa che un capo ucciso può conservarsi bene anche 20 giorni 30 giorni ed estate se deve anche mangiarlo puzzolente il lupo è anche un raccoglitore i raccoglitori sono animali in grado di digerire sia la carne fresca sia la carne come si dice ormai si può dire macerata in putrefazione eccetera la natura ha pensato tutto la natura non ha solo pensato a le persone che gli facevano cuociare la carne e continuano a essere convinte che faccia bene ai cani agli animali meglio facciamo la carne cotta piuttosto che la carne cruda natura non ha pensato tutto questo e di conseguenza niente questo lupo che viene ci fa i disastri e a volte ci ammazza tanti animali noi lo diamo per quello ci sembra che sia cattivo in realtà è un animale molto debole proprio perché un animale molto debole se noi ci organizziamo con dei cani basta una coppia di cani come si deve ma non avrò mai più problemi dubbi ma non mi rivolgo a tutte le difficoltà che mi vengono sempre elencate di chi sale in montagna di bisogna che facciano pace col cervello i politici coi pastori coi contributi che prendono i pastori col fatto che se quel lavoro non li avende più lo devono cambiare se hanno le capacità con i contratti che fanno con le regioni li devono far pace loro ma la natura i lupi non ne frega niente i lupi devono continuare a fare i lupi poi se li hanno messi se ce ne sono sempre di più ma quello assolutamente ciao maurizio assolutamente non riguarda i lupi i lupi fanno i lupi come noi facciamo le persone come io faccio la diretta come io mi occupo di cani un altro fa il falegname i lupi fanno i lupi allora è assolutamente importante capire quanto sia facile poterci liberare da questi da questi problemi se noi lo vogliamo se noi lo vogliamo cosa dobbiamo fare adesso vedo maurizio agù che si è sintonizzato adesso fare cosa ha fatto maurizio agù si è fatto una cultura ha studiato sui videocorsi ha sostenuto degli esami oggi ha una qualifica che in grado di poter aiutare altre persone che ha questi problemi però nel caso diventare professionisti della cinofilia fare dei percorsi ma ci dobbiamo informare ma la prima informazione che dobbiamo attingere che dobbiamo avere cani giusti cani giusti non sono i primi cani che noi troviamo su subito o i primi cani che ci regalano perché sono di quella razza sono i cani che funzionano e serve anche chi ti aiuta a risolvere i problemi e chi ti dà le dritte giuste per poter far funzionare al meglio il cane il problema è già risolto e conseguenza quello che io voglio spiegare che innanzitutto non è il branco di lupi più pericoloso per i nostri animali domestici per gli animali delle fattorie per gli ovili eccetera eccetera non sono già i nostri animali il cibo preferito per i lupi e questa è una cosa molto importante che molti non lo sanno sembra che la natura abbia creato questo animale maledetto che ucciderà sempre il bestiame ma noi non c'era il bestiame quando è nato il lupo il bestiame è venuto migliaia di anni dopo però queste cose bisogna sapere poi il branco di lupi non le interessa venire a prendere il nostro cane il nostro gatto il nostro puledo i nostri agnelli che sono attorno a casa eccetera viene il lupo solitario lupo solitario a volte agisce in modo diciamo insidioso antipatico incomprensibile e col termine è giusto incomprensibile perché noi abbiamo capito un cazzo di come è lui come lupo e non capisco perché lo debba spiegare un privato come me e non lo spiegano a livello istituzionale ogni volta che si fanno delle spiegazioni dei lupi c'è sempre di mezzo la marca di mangimi che dovete poi dare ai cani antilupo piuttosto che i contributi che bisogna ricevere se il lupo fa un danno piuttosto che la qualità bisognerebbe che a livello istituzionale alla televisione invece che ci fanno dei coglioni infiniti e quando prendono qualcuno che parla di lupi raccontano le fiabe raccontassero realmente il lupo proprio sotto il profilo zoologico ad esempio ieri mi hanno fatto vedere un video sui cani bellissimo fino a un certo punto poi non più perché quel video è servito poi per convincere le persone a fare delle azioni allora si è raccontato una giusta storia del cane per poi raccontare un sacco di bugie alla fine perché era ciò che si voleva come dire ottenere come secondo scopo istituzionalmente bisognerebbe proprio cioè raccontare le cose come stanno e saremo tutti facilitati quando noi incontreremo un lupo anche se abbiamo del bestiame anche noi non penseremo come prima cosa di ammazzarlo perché è facile che noi ci progetti ci proteggiamo dice ma allora dobbiamo prendere i cani apposta no esistono anche degli altri magari sistemi tanto bisogna stare molto più attenti io conosco persone io vivo in mezza montagna che sono molto oculati nella gestione del loro piccolo bestiame che hanno i lupi non gli ha mai preso niente ci sono altri che tirano due una rete li mettono e poi vanno all'osteria e ovvio che poi arrivano a casa sono successi disastri quindi il lupo è una cosa che è nata come dire tanti tanti anni prima di noi tanti tanti anni prima delle pecore degli anni nostri animali domestici e poi siamo mica noi non che abbiamo creato il lupo quindi oggi andava a discutere perché c'è il lupo e lupi potrebbero discutere perché ci siamo noi quindi secondo me spesso si cade in discussioni inutili ridicole stupide si prendono dei provvedimenti e si cercano delle soluzioni anche sotto il profilo come dire che sono frutto della nostra frustrazione noi molte volte ce l'abbiamo con altre cose non ci rivolgiamo allo stato che ci crea ormai schiavi di tutto che ci crea degli stress incredibili e vogliamo prendersela col lupo cioè non ce la prendiamo con tutto che non funziona più paghiamo degli abbonamenti di telefoni che non funzionano ci obbligano a pagare un canone di una televisione che noi non guardiamo ci obbligano a pagare tasse continuamente di una casa che la nostra ce la siamo pagata tutta abbiamo già pagato le tasse su tutti i materiali e continueremo a pagare le tasse per tutta la vita perché ci siamo fatti una casa al punto di dire ma è meglio che mi faccio la casa oppure vado in affitto perché siamo arrivati a questo punto se poi per caso la vuoi affittare la tua casa viene chiunque se ne occupa e dopo diventa la loro nessuno ti difende cioè stiamo vedendo cose come abbiamo visto l'altro giorno che forze dell'ordine si come si dice si accaniscono contro una persona indifesa la prendono abbastonato le stesse che poi tollerano persone pericolose e non sono in grado di difendere magari delle persone alle quali non è permesso di difendersi da sole non possiamo auto difenderci e vietato quindi in mezzo a tutte queste cose veramente ce la vogliamo prendere col lupo veramente lupo e questo animalaccio maledetto che se possiamo avvelenare lucidere c'è da perché già ammazzato quante galline ma oppure qualche pecora ma quante c'è metaforicamente galline pecore eccetera ogni anno lo stato ci ammazza le ingiustizie che noi siamo stati abituati ad esempio nel momento della pandemia e tutte cosa abbiamo fatto abbiamo accettato e qual è il motivo che non vogliamo accettare un animale che fa parte della nostra natura meno male che c'è ancora dobbiamo semplicemente organizzarci alla difesa e la cosa più ridicola del mondo è il motivo perché dovremmo averci a tutti i costi ammazzare il lupo perché uccide un po di animali che sono gli stessi animali che sono allevati finalizzati a essere uccisi solo che in quel caso danno un guadagno cioè a chi li ha allevati per essere poi mangiati dalle persone in abbondanza non per sopravvivenza perché un conto una volta quando un contadino aveva una pecora o due una mucca li dava il latte alla famiglia oggi noi entriamo in un supermercato e possiamo morire da tante carne da tante cose che non possiamo mangiare quindi non è che il lupo viene a rovinarci l'esistenza a volte si raccontano queste bugie però in realtà è come tutti gli altri animali che partecipano invece poterci organizzare innanzitutto con la cultura motivo che io ho ridotto di un 80 90 per cento la cessione dei miei cani alle aziende agricole perché la maggior parte aziende agricole non vogliono studiare se loro non studiano non imparano le competenze necessarie sia su chi li attacca cioè i predatori sia dei cani che sono fatti apposta per difendere e cosa che cosa aggiungiamo un problema un altro preferisco che vadano da altri che pur di vendere un cane fanno qualsiasi cosa poi problemi sono loro infatti ci sono i cani ripieni quindi in sintesi quello che vi volevo dire impariamo a rispettarlo il lupo solitario perché quando noi vediamo il lupo significa che siamo ancora un certo punto di armonia con la natura accettabile se noi andiamo avanti a inquinare tutto se andiamo avanti a utilizzare tutto ciò che crea più reddito e se ne frega dell'ambiente oggi per dire il grano viene fatto quasi su misura si riesce a togliere qualsiasi antiparassitario c'è il grano poi lo pagano poco ma non è il problema di noi il problema diciamo oggettivo ma il problema che la politica crea una concorrenza allora prendiamo c'era con chi crea la concorrenza ma non con la natura non andiamo a impestare tutto l'ambiente perché dobbiamo far di più e alla fine che abbiamo già ucciso tutto non esiste più niente di naturale io sono venuto a mettermi in questa zona molto scomoda per tanti motivi perché ho ancora la possibilità di stare in mezzo a uccelli che cantano vedere la mattina sono andato a correre o il picchio ogni tanto mia tra ecco queste zone hanno un prezzo altissimo da pagare come isolamento culturale come isolamento economico fortunatamente adesso ci sono i soci a sennò chi veniva nessuno quindi è molto importante capire che prima di prendere dei provvedimenti con gli animali bisogna conoscerli e lupo solitario credetemi già un animale pieno di problemi lui perché non voleva essere un solitario e sicuramente nel momento in cui diventava solitario lo immaginava di avere un altro territorio dove o morire in pace o poter occupare una nuova zona creare un nuovo branco e come sempre il problema che in tanti territori noi abbiamo fatto la nostra espansione urbana e del motivo per il quale noi ci ritroviamo in pianura e ce l'abbiamo con i lupi e invece dovremmo avercela probabilmente con altre cose bene ci tenevo a farvi questa per chi la vuole accettare trasferire queste competenze che secondo me faranno vedere in un altro modo e capire un po meglio questo argomento e non tirare delle conclusioni affrettate perché si possono trovare delle soluzioni pacifiche e oltretutto quelli che sono più interessati a crearci danni non sono proprio i lupi i veri lupi sono già quei lupi un po disgraziati che il branco in qualche modo ha dovuto non che ha dovuto che in qualche modo si sono dovuti isolare e quindi proprio perché vivono come lupi solitari ovvero isolati non hanno già la vita facile bene vi ringrazio tanto per avermi seguito e vi auguro a tutti buona giornata a presto